industriale e quella di ferrari e venelli che è leader in italia nel campo del trattamento corona e del trattamento plasma anche questa è un'azienda che ha tanta storia 55 anni di esperienza perché è nata nel 65 e progetta e produce sistemi corona ha sviluppato soluzioni innovative per tutte le applicazioni di converting e estrusione nella produzione di imballaggio flessibile abbiamo con noi claudia benelli buongiorno e benvenuta buongiorno grazie e allora vediamo facciamo una chiacchierata tra di noi in così ci potete raccontare ci può raccontare esattamente cosa fa ferrarini e benelli cominciamo dal trattamento corona che cos'è e perché è così importante sì intanto ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori allora il trattamento corona faccio una breve introduzione prima di passare agli argomenti di questo webinar che sono poi l'industria 4.0 e la digitalizzazione il trattamento corona è un trattamento superficiale che viene fatto sui materiali plastici per aumentare la tensione superficiale e migliorare quindi l'ancoraggio degli inchiostri nelle processi di stampa flessografica rotocalco e anche l'ancoraggio degli adesivi nei processi di laminazione ed accoppiamento è importante trattare questi materiali perché i film polimerici hanno una bassa tensione superficiale e non permettono quindi un buon ancoraggio di inchiostri adesivi e quindi un prodotto ottimale ogni film plastico ha la propria tensione superficiale naturale che può essere incrementata con un trattamento corona il trattamento corona è formato principalmente da un generatore di potenza un trasformatore di alta frequenza e una stazione di trattamento equipaggiata con un ventilatore di aspirazione dello zona la scarica corona viene erogata dagli elettrodi che sono posti all'interno della stazione di trattamento e questa scarica va a colpire la superficie dei film plastici quindi andandola ad attivare ed aumentandone la tensione superficiale. Quali sono le applicazioni del trattamento corona? Il trattamento corona ha due applicazioni principali quella nell'estrusione quindi nella produzione dei materiali plastici ehm per esempio eh nell'estrusione di film in bolla eh estrusione di film in cast ma anche estrusione di lastre eh rigide in materiale plastico e poi ha anche eh una grande applicazione nel converting eh cioè nella ehm applicazioni eh di eh stampa flessografica rotocalco offset eh nelle linee di coating e laminating e anche extrusion coating. Eh vediamo alcuni ehm esempi eh questo è il tipico posizionamento di un sistema corona su un estrusore in bolla eh questo è un esempio di dove è posizionato il trattamento corona su una linea di stampa eh rotocalco eh qui abbiamo un'applicazione su una linea eh di stampa flessografica e eh infine un'applicazione eh su una linea eh di accoppiamento. Allora scendiamo un po' più nel dettaglio e vediamo quali sono i parametri implicati eh nel trattamento nell'applicazione del trattamento corona. Sì eh come ho spiegato precedentemente eh l'obiettivo del sistema corona è quello di incrementare la tensione eh superficiale che si misura in dine al centimetro e quindi eh migliorare l'ancoraggio degli inchiostri e degli adesivi. Eh come possiamo fare questo? Il sistema corona eh fa questo applicando una determinata potenza eh per un determinato eh periodo di tempo sulla superficie del materiale plastico. Questo parametro di potenza eh nel tempo è misurato in watt eh per ogni minuto eh per ogni metro quadrato di materiale ed è ehm chiamato densità di potenza. I parametri quindi che vanno a influire eh il trattamento corona sono sia parametri di sistema quindi la densità la la potenza eh erogata dal generatore, la larghezza del materiale che noi dobbiamo trattare e il numero di lati che dobbiamo trattare ma anche la velocità e poi ci sono anche dei parametri di processo che vanno a influire sul dimensionamento del trattamento corona che sono il tipo di substrato cioè il materiale che dobbiamo trattare e il tipo eh di processo. Tornando e focalizzandoci sui parametri eh di sistema eh facciamo mh qualche esempio. Eh ad esempio la densità di potenza eh impiegata è ehm direttamente proporzionale alla misura della potenza erogata ma inversamente proporzionale alla larghezza del materiale dal trattare quindi per mantenere una densità di potenza eh invariata se la larghezza del materiale raddoppia dovrò aumentare anche l'output di potenza impiegata e eh allo stesso modo una variabile importante da considerare la velocità maggiore è la velocità maggiore sarà la potenza necessaria per raggiungere un determinato risultato e la velocità ha quindi un impatto molto rilevante sulla scelta e la configurazione del sistema corona perché mi determina il ehm mi determina la potenza del generatore ed anche il numero di elettrodi che eh di cui il sistema corona è equipaggiato che mi determinano la superficie di scarica. Allora tutti questi parametri andranno monitorati eh costantemente al fine di ottimizzare i processi e le funzionalità del sistema. Sì infatti eh per eh ottimizzare il processo corona e mantenere quindi controllata eh la densità di scarica sono importantissime eh determinate funzioni. Ne ricordiamo alcune ehm ad esempio la regolazione della potenza in funzione dell'elettrodo in scarica cioè della larghezza del materiale da trattare. La regolazione automatica della funzione in ehm in relazione alla velocità eh il monitoraggio costante della densità di potenza, il settaggio della velocità minima di start o di stop, eh l'auto start, lo skip treatment cioè il trattamento ad intervalli e il wet start che è un avviamento controllato in ambienti umidi. Poi ci sono ovviamente tutti gli allarmi e eh la diagnostica che servono per mettere in sicurezza eh l'impianto eh come possono essere segnali di cortocircuito, sovratemperatura, eh mancanza di comunicazione, allarmi di eh velocità. Ehm vorrei sapere a questo punto tutti questi parametri che il sistema tiene in mano e gestisce come possono essere interpretati mh in termini di digitalizzazione industrie quanto quattro punto zero cioè come si incastrano con queste istanze. E questo è molto importante perché appunto il controllo di queste funzioni, di questi parametri eh ci permette eh di tenere monitorato la densità di scarica in modo che quella impostata dal cliente sia quella effettivamente eh erogata eh dal sistema Corona. E per questo è possibile remotare eh tutte le funzionalità del generatore Corona e tutti i parametri eh nel eh PLC della linea eh dove il trattamento Corona è eh installato. Eh per questo sono previste delle remotazioni che possono essere ehm eh eseguite con diversi eh protocolli di comunicazione come ad esempio il Profinet, il Profibus, eh sistemi Modbus, EtherCAT, volendo anche dei sistemi analogici. Eh in ottica quattro punto zero si va sul digitale, uno dei sistemi più utilizzati ad esempio è il Profinet che ha il vantaggio di portare tutte le funzionalità del sistema Corona sul PLC della linea tramite un solo cavo è molto versatile e permette quindi al cliente eh di scegliere quali parametri visualizzare, quali controllare, quali monitorare. Eh per finire vorrei sapere quali sono le tendenze eh del futuro insomma cosa succederà, cosa farete e cosa aggiungerete a questa offerta in futuro? Il futuro ormai prossimo eh è certamente digitale e interconnesso eh quindi eh sarà possibile eh avere tutte le funzionalità eh e il monitoraggio dei dati in tempo reale anche eh su device portatili come tablet, pc, lepton o smartphone per un controllo del sistema eh molto eh più agile e eh per finire anche la possibilità eh di eh portare in cloud eh tutti i dati e le funzionalità, fare un monitoraggio eh costante ed anche avere la possibilità eh di eh fare un data recording e un data analytics perché si riescano poi a monitorare e analizzare i dati eh per eh per poi fare dei report eh per la qualità ma anche per permettere al nostro service di eh poter essere più vicino al cliente eh anche da remoto e questo è il modo in cui noi abbiamo visto il nostro percorso verso il 4.0. Grazie mille a Claudia Benelli di Ferrarini e Benelli che ci ha illustrato le attività dell'azienda. Grazie alla alla prossima. Grazie. E adesso ci spostiamo.